Ma che capitale? Perché col fatto di stabilità i soldi comuni sono bloccati, quindi si può fare il debito giustamente, i soldi sono quelli che si vanno da un'altra parte e non possono essere usati per pagare i salari, per pagare i servizi. Dobbiamo che ci sia questo problema che possa essere stesso a livello nazionale, perché per esempio i contratti nazionali sono bloccati da 5 anni, mentre invece dal punto di vista più generale non ci sia nessuna attenzione per colpire i grandi evasori fiscali e recuperare i soldi dalla corruzione.